Musica Amici di Via Vai TV Online, questa sera siamo al Teatro Civico di Schio. Abbiamo due ospiti che tra pochissimo andranno in scena con una lettura, un reading, tutto incentrato sull'opera di Luigi Meneghello, Gabriele Vaccis e Mirko Artuso. Prima cosa che chiedo, tu hai partecipato attivamente all'Otto Zero, al progetto per far rinascere questo teatro. Qual è la tua sensazione questa sera? È una grande emozione essere qui questa sera perché ci abbiamo lavorato per dieci anni. L'idea è stata quella di far partecipare il pubblico alla ristrutturazione del teatro. Per questo ci è voluto tanto tempo perché il teatro lo abbiamo fatto vivere anche durante il lavoro. Quindi gli spettacoli che sono stati fatti qua durante l'Otto Zero servivano a sperimentare proprio gli spazi del teatro. Al pubblico veniva fatto compilare poi un questionario e diciamo che la progettazione è stata una progettazione collettiva. Credo che alla fine questo permetta al teatro di essere più parte della città, di creare un'identità vera insieme alla città. Tra te e Luigi Meneghello c'è un rapporto storico che va ben oltre appunto la sua scomparsa. È dall'89 che ti occupi del suo lavoro. Cosa ti spinge ancora a raccontare di lui e a trattare delle sue opere come appunto questa sera andrete a fare? Io credo che Meneghello sia uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Penso che tutte le volte che c'è l'occasione di leggere le sue opere in qualche modo si partecipa alla costruzione del mito. Ecco, vorrei mettere la mia firma sulla costruzione, non di tutto, della mia parte di costruzione del mito Meneghello perché credo che sia uno dei pochi personaggi che davvero meritano di passare alla storia, di passare ai posteri. Quindi leggerlo a voce alta significa poi comprenderlo profondamente. La sua scrittura è vicina alla poesia e la poesia non si può leggere mentalmente, bisogna leggere la voce d'alta. E quindi un'occasione come questa, tutte le occasioni come queste per me sono benvenute. Il linguaggio, la leggerezza di Luigi Meneghello, le sue intuizioni nello scrivere trattano però di cose lontane nel tempo da noi probabilmente. Cosa lo rende ancora così attuale, così capace di incantare ancora anche le generazioni più giovani? Noi usiamo contemporaneo e attuale come se fossero sinonimi. In realtà contemporaneo è quasi il contrario di attuale, cioè attuale è stare in un tempo. Contemporaneo è stare in tutti i tempi, riuscire a dire qualche cosa a tutte le generazioni. Allora ci sono sentimenti profondi dentro alla scrittura di Meneghello che davvero attraversano il tempo. Noi leggiamo di un tempo che ormai appartiene al secolo scorso, ma i sentimenti profondi sono gli stessi. Per esempio, sono gli stessi di oggi. Per esempio, l'appartenenza e l'identità. Ecco, Meneghello li tratta senza equivoci, mentre oggi ci sono un sacco di equivoci. Se si leggesse Meneghello, invece di fare tanti talk show su questi argomenti, ne avremo tutti un beneficio. Mirko Artuso, Meneghello segna molto anche la tua storia artistica. Cosa porti in scena questa sera e cosa rappresenta per te uno spettacolo di questo tipo, nonostante gli anni di frequentazione con gli iscritti? Meneghello per me rappresenta il teatro. Avevo 21 anni, quando ho iniziato a leggere ho scoperto Meneghello, che mi ha permesso di aprire gli occhi sulla mia identità di provinciale. Io pensavo che le cose che avevo fatto fino a quel momento fossero cose di cui vergognarsi, in quanto provinciali, e invece non era vero, perché lui le aveva in qualche modo portate alzandole di tono e anche di forza, di intensità, e raccontava le cose che io avevo vissuto fino a quel momento lì. E lì ho capito che potevo anch'io alzare la testa, dire le cose, e appartenere ad una collettività, insomma, e attraverso questa raccontarne altre storie come poi è successo nel teatro. Questa sera con Gabriele io faccio il mio cavallo di battaglia, che è il monologo finale dello spettacolo Libera Nos, nelle due edizioni, che è il monologo di Cicana, quando viene poi ricoverato in una clinica psichiatrica, come succede alla fine, insomma, di questa nostra invenzione teatrale. Luigi ci teneva tantissimo a dire che l'avevamo scritto noi questo, che era una cosa che non aveva scritto lui, ma non lo diceva perché non gli piaceva. E' semplicemente per puntualizzare e dire, sì, bella, mi è piaciuta, ma non l'ho scritta io. Chiedo anche a te, allora, la sensazione di essere in questo luogo così bello. Io calco un po', sottolineo un po' questa cosa, perché secondo me per la città di Schio la restituzione di questo teatro è veramente una grande opera. Cosa rappresenta per te esibirti su questo palco? Io ho avuto la fortuna di fare anche la regia dell'inaugurazione, quindi di questo percorso itinerante, quindi di portare il pubblico in tutti i luoghi che, insomma, compongono questo teatro. E ovviamente è un'emozione fortissima, perché si respira la storia di questo luogo e la si può rivedere ferma nel tempo, ma allo stesso tempo molto agile. Qui dentro si può ancora fare il teatro che si faceva e che si può immaginare e pensare. È un luogo molto duttile, lo si può usare in molti modi, quindi si presta a diverse interpretazioni. Da artista ad entrare qui dentro ovviamente si trova un luogo accogliente, pratico, dove si possono fare le cose nel modo migliore, insomma. La restituzione è andata a buon fine. Allora, grazie Gabriele Vaccis, grazie a Mirko Artuso. Questa sera assisteremo quindi al vostro spettacolo. Grazie ancora. Grazie a voi.